amici di calciameccato.com ben ritrovati alle inscrizioni oggi parliamo di luis muri che è tornato al gol contro lo spezia trattato anche a giocare titolare nelle ultime settimane dopo che per diversi mesi era sceso nelle gerarchie di giampiero gasperini ha giocato titolare contro lo spezia anche perché c'è stato un problema fisico per hollund e proprio l'esplosione di hollund ha avuto un'influenza sulle ultime mesi sull'ultima stagione di muriel a bergamo il prossimo futuro di muriel dipenderà anche in questo caso dal destino dell'attaccante danese nel senso che se poi l'atlanda dovesse accettare di cedere hollund già la prossima estate ci sono stati diverse richieste soprattutto da club di premier league a quel punto sia muriel che zapata potrebbero restare altrimenti uno dei due e muriel è il giocatore indicato maggiormente potrebbe partire muriel che era in scadenza 2023 l'atlanda però sfruttato un'opzione presente nel contratto per rinnovare di un ulteriore stagione quindi fino al 2024 questo però non vuol dire che l'attaccante classe 91 resterà certamente a bergamo appunto tanto del futuro di muriel dipenderà da quello di oil grazie a tutti grazie a tutti